dal pensiero di san pio del 27 di agosto mese del padre saliamo con generosità il calvario per amore di colui che simbolò per nostro amore e siamo pazienti certi di spiccare il volo per il tabor questo pensiero è stato tratto dal libro padre pio un pensiero per ogni giorno dell'anno edito da shalom grazie a tutti